Ciao a tutti, sono Fabio Raimondo maestro di Karate. Sono qua oggi per presentarvi i video che stiamo preparando e realizzando sulle specifiche delle tecniche di Karate. Faremo dei video dettagliati su come mettere a posto le tecniche, su come preparare le tecniche e su degli esercizi proprio ideologici proprio per le varie tecniche di Karate che andremo a analizzare. Logicamente, in questi video farò vedere quello che ho appreso in questi anni di studio. Tutti bisognerà sempre allenarsi in palestra, come al solito, per mettere a posto la tecnica come si deve. L'allenamento in palestra è imprescindibile. Allora, cominciamo con i nostri video.